buongiorno a tutti e benvenuti nel primo tutorial dedicato all'invio del promemoria degli sms questo tutorial sarà un pochino tecnico ma grazie a questo avremo modo di vedere tutte le potenzialità dell'invio del promemoria quindi impostando le configurazioni quindi impostando l'invio dei promemoria che è una cosa che faremo insieme quindi contattando l'assistenza avremo modo di configurare questa parte avrò modo di illustrarvi come è possibile inviare promemoria allora innanzitutto si configura un testo di default la novità è proprio quella che grazie a questi promemoria di goweb sarà possibile personalizzare gli sms quindi come vedete nel testo troverete client name ovvero ogni sms verrà inviato con il nome reale dell'appuntamento che avete fissato allo stesso modo si può configurare anche la data l'orario e il nome del salone il testo comunque rimane a vostra scelta ciò che c'è nelle graffe e ciò che in automatico verrà inviato verrà scritto da goweb un'altra cosa che è possibile grazie a goweb è la possibilità di inviare automaticamente questi promemoria quindi configurando i promemoria si può decidere se inviarli 24 ore o 48 ore prima dell'appuntamento configurando anche da che ora che ora qui sarà configurato diciamo con gli orari del salone quindi se fisso un appuntamento per domani alle 18 oggi alle 18 partirà in automatico il mio promemoria vi aspetto nei prossimi tutorial che vedremo come funziona esattamente l'invio